Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Cercherò di passare i brutti pensieri e cercare di farvi stare meglio Prima di tutto accendiamo questo incenso Sono dei volettini di carta d'Eritrea per rilassare l'ambiente Prendiamo una cartina e usiamo questo qua per bruciarlo Questo cos'è per andare a bruciare il nostro incenso? Cercherò di farvi rilassare in modo di accenderlo Con questo aroma cercherò di farvi rilassare Lo facciamo qua sotto e accendiamo tu per sicurezza Così Pio per essere ancora meglio E' un profumo buonissimo Molto molto rilassante Ciccacchi Ciccacchi Gli occhi E rilassare Senti? Io ho qui senti tu perfumas. Luce suonare con soltastic green gents. Sentite? Rilassate, cercate di rilassare, adesso in incenso sei totalmente spento, cercherò in questi pochi minuti, farvi rilassare, essere meglio, vorrei vedere una cosa chiuso tantissimo per rilassarmi, che è questo qua, questo è un ventilatore, questo è un ventilatore, come potete vedere, però l'altra funzione, stiamo facciando, qua, qui, a spizzare anche l'acqua, questo è un ventilatore, con questo, il ventilatore, di raffreddare, così, semplicemente, con il ventilatore, con il ventilatore, con il ventilatore, così, semplicemente, così, molto, molto rilassante, molto spescante. Sì, qui? Sì. 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 questo qua, lo mettiamo qua, così, cercate di rilassarvi, di addormentarvi, io taglio, taglio via i vostri pensieri brutti, i vostri incubi, fanno via, buonanotte, dove vi bisogna rilassarvi, spero che domani per voi sia un giorno fantastico.